Un centro-sinistra paralizzato e alle prese con importanti decisioni per il futuro dell'Abruzzo. E' una critica a 360 gradi quella che il centro-destra unito rivolge alla giunta d'Alfonso, in particolare sul riordino delle province e sul salvataggio dell'Isa dell'Aquila. Provedimenti tardivi, provvedimenti fatti male. Sulla cultura noi chiediamo un sostegno sì all'orchestra sinfonica, ma anche a tante altre associazioni enti meritevoli. Ne sono 14 che ricevono finanziamenti dal Fondo Unico per lo spettacolo. Per quanto riguarda le province abbiamo presentato emendamenti per dare un senso a questo provvedimento, emendamenti che sono stati firmati anche da alcuni consiglieri di maggioranza, il che testimonia la bontà e la serietà delle nostre proposte. Una legge, fra le altre cose, sulle province che nel primo articolo chiede a sé i poteri. Cioè l'aggiunta regionale chiede di evocare a sé i poteri su quelli che sono i fattori più importanti, quindi competenze, finanziamenti soprattutto, delegando poi alcune cose ai comuni, tipo l'assistenza e il trasporto disabili per le scuole superiori, che i comuni non possono sicuramente mantenere. Domani saremo lì con i nostri emendamenti, firmati anche da consiglieri della maggioranza, a fare battaglia per il bene della nostra provincia. qualora questo non si riuscisse a fare faremo una strutturazione fino alla fine perché non può passare alla legge questa parte.